Il progetto Peter Curr Solidare fa parte e integra le attività del territorio che normalmente il nostro servizio svolge. È un grosso valore aggiunto. L'animatore di comunità. Abbiamo 663 borgate sul territorio dell'ambito. L'animatore di comunità andrà all'interno di qualcuna di queste borgate che utilizzeremo come sperimentazione e lavorerà con i cittadini che li vivono, cercando di diventare un punto di riferimento, di far emergere dei bisogni, di far emergere delle risorse. La Casa della Salute per i minori sarà un modo per collegare i servizi sui giovani che si stanno anche già realizzando e per potenziarli, così come l'attività del Centro per le Famiglie Diffuse. In più, questa sarà un'occasione per mettere a sistema tutti gli altri progetti che comunque hanno delle ricadute sul territorio in termini di promozione della buona vita, del buon abitare, del buon lavorare e del buon stare su questa realtà che è ampia, vasta, ma che offre tante possibilità e tante opportunità.